eccoci ragazzi oggi motorbike expo verona e si entra subito nel primo padiglione padiglione 1 questo all'esterno passeremo dopo all'esterno ragazzi si parte su mv eccoci qua bel caldino bel caldino eccoci padiglione 2 ragazzi grazie a tutti grazie a tutti ovviamente il miglior stand ragazzi il miglior stand è questo ragazzi abbiamo anche suzuki suzuki vstrom 800 ragazzi vstrom 800 abbiamo già vista all'ecma molto bella molto bella grazie a tutti grazie a tutti ok ragazzi prima fiera dell'anno andata mbe verona niente ragazzi se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale un bel mi piace e niente alla prossima ciao ciao